Siamo con il presidente De Rosa e il direttore sportivo per Rotta, c'è delusione dopo questo pareggio, la parola al presidente della Rassan Felice. Presidente De Rosa, commento questo pari o pari deludente? Un pari deludente da parte nostra, siamo su una vittoria ma purtroppo non è venuta la vittoria. Cosa c'è da ricriminare questa squadra? Cosa c'è che non va? Mancanza di stimoli, un primo tempo noioso, sfortuna, sticco troppo solo in avanti, quali sono le motivazioni? Non ho capito che cosa ci manca a questa squadra, la motivazione c'è, la grinta c'è, però manca qualcosa che in ancora abbiamo capito che cosa manca a questa squadra. Mister Cinquegrana, godete la totale fiducia della società? Sì, sì, godete tutta la nostra fiducia della società. Soltanto una vittoria a questo punto, una vittoria che rassina un po' l'ambiente perché c'è il pareggio interno contro una diretta concorrente sul piano del morale un po' pesante. Che ti posso dire, è andata così, l'abbiamo vista tutta la partita, purtroppo non c'è stato verso di fare il gol. Grazie.